Il digital storytelling è un approccio educativo che fonde la narrazione tradizionale con l'uso delle tecnologie digitali. Questo metodo è progettato per migliorare l'apprendimento degli studenti attraverso la creazione di storie digitali che incorporano video, audio, immagini e testo. In questo video esploreremo questa metodologia, accennando anche ai contributi offerti da Brunner e Lambert. Cos'è il digital storytelling? Il digital storytelling coinvolge gli studenti nella creazione di storie utilizzando strumenti digitali, promuovendo l'espressione creativa, lo sviluppo delle competenze tecnologiche e il pensiero critico. Incominciamo con le idee di Brunner in relazione allo storytelling. Brunner, uno dei principali teorici dell'educazione, ha fornito importanti contributi alla comprensione del digital storytelling. Brunner sostiene che la narrazione è un potente strumento cognitivo che aiuta le persone a dare senso al mondo. Attraverso le storie, gli studenti possono organizzare le loro esperienze e costruire conoscenze. L'apprendimento avviene attraverso l'attività di costruzione di significati. Il digital storytelling permette agli studenti di costruire attivamente conoscenze attraverso la creazione di storie. Le storie aiutano a contestualizzare le informazioni, rendendole più rilevanti e comprensibili per gli studenti. Questo metodo facilita l'apprendimento contestualizzato. Brunner distingue tra pensiero narrativo, storie, esperienze, eventi e pensiero paradigmatico, logica, analisi, categorizzazione. Il digital storytelling combina entrambi, favorendo un apprendimento olistico. Uno dei pionieri del digital storytelling è stato Joe Lambert, che ha identificato sette elementi chiave per la creazione di una storia digitale efficace. Primo, il punto di vista. Chiarire da quale prospettiva viene raccontata la storia. La scelta del punto di vista influenza profondamente il modo in cui la storia viene percepita e compresa. Secondo, la domanda drammatica. Definire la domanda centrale che guida la narrazione. Questa domanda crea suspense e mantiene l'attenzione del pubblico fino alla risoluzione finale. Terzo, il contenuto emotivo. Integrare elementi che suscitano emozioni nel pubblico. Le emozioni rendono la storia più coinvolgente e memorabile. Quarto, la voce del narratore. Utilizzare una narrazione in prima persona per dare autenticità e personalità alla storia. La voce del narratore deve essere chiara e genuina. Quinto, la colonna sonora. Incorporare musica e suoni per migliorare l'atmosfera e il ritmo della storia. La colonna sonora deve essere scelta attentamente per supportare il tono e il messaggio della narrazione. Sesto, l'economia. Essere concisi e focalizzati. Ogni elemento della storia deve avere uno scopo e contribuire al messaggio complessivo, evitando informazioni superflue. Settimo, il ritmo. Gestire il ritmo della storia per mantenere l'interesse del pubblico. Il ritmo deve variare per evitare la monotonia e mantenere l'attenzione. Quali sono quindi le fasi del processo di elaborazione di un digital storytelling? La pianificazione. Scegliere il tema, definire il target del pubblico a cui si desidera rivolgersi e delineare la struttura della storia. La scrittura del copione. Creare una sceneggiatura dettagliata, includendo dialoghi, descrizioni di scene e note per l'uso dei media. La creazione dei media. Raccolta o creazione delle risorse necessarie. Immagini, video, musica, suoni. La produzione. Assemblare e montare i vari elementi multimediali utilizzando software di editing. La revisione. Rivedere e perfezionare la storia, apportando correzioni e miglioramenti. La condivisione. Pubblicare e condividere il prodotto finale con il pubblico di riferimento, utilizzando anche spazi online. Ed ora soffermiamoci sui benefici educativi del digital storytelling. 1. Sviluppo delle competenze digitali. Gli studenti imparano a utilizzare vari strumenti tecnologici e software di produzione multimediale. 2. Creatività. Questo metodo stimola l'espressione creativa, incoraggiando gli studenti a sperimentare con diverse forme di narrazione e media. 3. Competenze di comunicazione. Migliora le abilità di scrittura, lettura e presentazione, poiché gli studenti devono trasmettere messaggi chiari e coinvolgenti. 4. Apprendimento. Collaborativo. Favorisce il lavoro di squadra e la collaborazione, soprattutto nei progetti di gruppo. 5. Pensiero. Critico. Gli studenti devono riflettere criticamente sui contenuti, organizzare informazioni e presentarle in modo coerente. 6. Motivazione. Le storie digitali, grazie al loro contenuto emotivo, possono motivare e coinvolgere maggiormente gli studenti rispetto ad altri metodi didattici. 7. Apprendimento multisensoriale. Integrando vari media, il digital storytelling coinvolge più sensi, facilitando l'apprendimento attraverso esperienze sensoriali diverse. Ma quali strumenti e risorse sono necessari? Software di editing video, applicazioni di registrazione audio, piattaforme per la creazione di storie digitali, risorse educative online. Ed ora ecco alcuni semplici esempi. Progetti di storia. Gli studenti possono creare documentari digitali su eventi storici, integrando narrazioni personali e fonti storiche. Lingue e letteratura. Produzione di video narrativi basati su libri, letti in classe, recensioni, narrazioni di storie personali anche in lingua straniera. Sienze sociali. Creazione di storie che esplorano tematiche sociali, culturali o ambientali, utilizzando dati e ricerche per supportare le narrazioni. Ed eccoci quindi arrivati alla conclusione. Il digital storytelling rappresenta un potente strumento didattico che arricchisce l'esperienza educativa, rendendo l'apprendimento più interattivo e significativo. Promuove un apprendimento olistico che coinvolge logica, emotività e creatività. Grazie per la visione!